Buonasera cari spettatori, bentrovati ad una nuova edizione del TG Question Time. Questa sera continuiamo a parlare di un argomento molto importante che sta a cuore a tutti, vale a dire il caro bollette, ma il caro bollette è quello che è la ricaduta poi su un settore che molte volte è già in sofferenza, quello ATC, quello delle case popolari. Per fare chiarezza ne parliamo proprio con il presidente di ATC Piemonte Nord, Marco Marchioni. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera, grazie per essere con noi e per aiutarci a comprendere quanto possa essere complesso questo momento anche per ATC. Diciamo che il momento storico in cui stiamo vivendo è un momento difficile per tutti, è difficile per le famiglie, passatemi il termine, che non versano in crisi economica o in difficoltà di altro genere, figuriamoci per quelli che sono gli inquilini ATC che di per sé ovviamente necessitano di un aiuto in più da parte dello Stato. Sicuramente subiranno il rincaro dei prezzi così come lo subiranno tutti gli altri e come ATC di fatto siamo i gestori di oltre 10.000 alloggi sul quadrante di Novara, VCO, Biella e Vercelli, oltre a 4.500 tra garage e uffici e quindi stiamo cercando in tutti i modi per pesare o far pesare il meno possibile questi rincari sulle famiglie. Ovviamente questo non vuol dire che ATC pagherà per queste famiglie e queste famiglie si vedranno sollevate da questo costo perché ATC è un ente di gestione della regione Piemonte e quindi al momento sta anticipando ovviamente dei costi per garantire anche la fornitura perché noi sappiamo che altre realtà simili alla nostra hanno avuto difficoltà, hanno segnalato soltanto nei giorni scorsi i contratti con i fornitori del gas e quindi rischiavano non soltanto di subire rincaro dei costi ma rischiavano altresì di non avere un'adeguata fornitura di gas per garantire le temperature minime per questo inverno ai propri inquilini. Dicendo questo mi sembra di capire che voi vi eravate già mossi con anticipo. Sì, noi avevamo fatto delle valutazioni quindi appena la situazione mondiale ha iniziato a muoversi abbiamo avuto il fiuto per capire dove si stava andando e quindi già dai primi di marzo del 2022 avevamo, nostro malgrado non fa mai piacere ovviamente chiedere soldi a delle persone, dei nuclei familiari che già versano in difficoltà, ma avevamo deliberato come CDA un aumento del 30% degli acconti che sulla nostra bolletta mensile andavamo a richiedere. Questo nella speranza che lo Stato nel frattempo mettesse una pezza e che consentisse poi ovviamente in serie di conguaglio di rimodulare il tutto abbassando o addirittura arrivare a un conguaglio zero, in realtà la situazione è andata peggiorando e quindi anche attualmente stiamo purtroppo operando un ulteriore aumento degli acconti a carico dei nostri inquilini nel tentativo ovviamente con l'intenzione di spalmare su un lungo periodo quello che sarà l'aumento del costo del gas e nella speranza sempre che rimane ovviamente noi pubblici amministratori che lo Stato che ha la possibilità non soltanto di intervenire direttamente calmirando il prezzo del gas ma che con la diplomazia riesca in qualche modo a risolvere il problema internazionale che quindi si arrivi l'anno prossimo ad un conguaglio a zero per i nostri inquilini o addirittura a un conguaglio positivo quindi a una restituzione a loro favore di quanto versato in più in questo periodo. Però lei ha parlato di marzo 2022 vale a dire stiamo parlando di 6-7 mesi in cui già avete potuto avere un ordine di idee su quello che potrebbe essere il vostro mancato introito a fronte di questo adeguamento in più che avete richiesto quindi cosa avete riscontrato? La morosità se devo essere sincero è rimasta più o meno la stessa forse anzi a seguito del piano di diciamo di recupero avviato con una società esterna nei confronti dei nostri inquilini cessati quindi quelli che non sono più inquilini di ATC ma sono usciti dai nostri immobili perché fortunatamente per loro hanno delle condizioni economiche migliori forse questo piano di recupero è servito anche nei confronti dei nostri inquilini per far capire che purtroppo o per fortuna le bollette e gli affitti ad ATC vanno pagati ma questo per il bene comune quindi la morosità nonostante l'aumento del 30% operato da marzo 22 non è aumentata è rimasta stabile se non addirittura leggerissimamente diminuita certo è che ATC ha predisposto ha deciso di fare di richiedere questi aumenti perché ovviamente abbiamo gli uffici di ATC sia quello economico finanziario che quello del patrimonio hanno fatto delle proiezioni di aumento dei costi in base ai consumi e siamo passati da 2 milioni e 8 spesi nella stagione 2021 a oltre 10 milioni che si prevede di spendere nella stagione 2022-2023 per cui comprenderete che la situazione è drammatica è un incremento esorbitante ed è impossibile per voi farvene ovviamente carico voi avete puntato molto e già ne avevamo parlato nella nostra scorsa intervista sul rinnovamento tecnologico questo è importante anche per il settore dei pagamenti certo come avevamo appunto già discusso nella precedente puntata qui da voi l'ATC sta cercando di passare nella nuova era passare nel 2100 adesso esagero però nel senso stiamo investendo molto sulla tecnologia ma questo non perché abbiamo voglia di buttare via del denaro in servizi inutili noi vogliamo in tutti i modi cercare memori anche del passato recente quindi del periodo Covid con difficoltà di spostamento con difficoltà di accesso agli uffici stiamo cercando di ridurre la distanza tra i nostri uffici e il nostro pubblico per far questo ovviamente come dicevamo stiamo investendo sulla tecnologia e quindi abbiamo implementato da una parte il nostro contact center che è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 questo chiedo scusa il contact center è per gli utenti che avessero da segnalare qualche disservizio? esattamente il contact center serve per la segnalazione della perdita piuttosto che qualsiasi tipo di guasto nell'alloggio in gestione e questo si tramuto in un vostro intervento più immediato rispetto a prima esattamente infatti quello che io sto cercando di far capire non soltanto ai nostri utenti ma anche ai vari comuni è che una segnalazione attraverso il nostro contact center o attraverso gli altri strumenti tecnologici di cui diremo a breve è una riduzione del tempo di presa in carico del servizio e di conseguente risoluzione dello stesso perché in passato cosa succedeva? che l'inquilino contattava il consigliere comunale piuttosto che il consigliere di ATC che conosceva direttamente e segnalava il problema poi il consigliere comunale o consigliere ATC ovviamente passando per le vie ufficiali comunicava ad ATC o al presidente o direttamente all'ufficio tecnico o all'ufficio competente la problematica e successivamente si interveniva questo però consentiva i tempi erano dilatati esattamente portava una dilatazione di tempi eccessiva ma in più spesso cosa succedeva? che tra un passaggio e l'altro l'informazione, la segnalazione si perdeva viceversa adesso con il contact center ma più ancora con il nostro assistente virtuale sul nuovo sito internet di ATC Piemonte Nord Alex chiamato o con la nuova chatbot cioè con la nuova app un'applicazione scaricabile gratuitamente dai negozi online insomma quelli di applicazione non voglio fare pubblicità ma Google, Apple, eccetera i soliti si potrà avere un contatto diretto con ATC anche di notte quindi molto più velocemente e quella segnalazione viene caricata direttamente dalla app da Alex o dal contact center all'ufficio competente il quale la prenderà in carico subito aprirà il sinistro se è un sinistro piuttosto che la segnalazione insomma il problema farà uscire il tecnico il quale farà ovviamente il sopralluogo verificherà di cosa si tratta e a quel punto lì smisterà all'ufficio competente il problema per una più rapida soluzione quindi io invito tutti i nostri inquilini davvero ad utilizzare i mezzi ufficiali non quelli ufficiosi perché solo così possiamo garantire innanzitutto una trasparenza nella gestione dei servizi qualora vi fossero dei problemi o comunque dei ritardi nella risposta all'inquilino andiamo subito a capire dove è stato il problema dove c'è stato il topo e andare a verificare tutta la tempistica esattamente e quindi andremo ad accelerare il servizio a favore dei nostri inquilini tra l'altro tramite applicazione si potrà anche pagare quindi comunque è un sistema sempre più immediato non bisogna recarsi in posta o comunque negli uffici nei vostri uffici ma diventa ancora più immediato si potrà pagare direttamente col pago PA si potrà verificare la propria situazione diciamo nel caso di pagamenti regolari o nel caso in cui vi sia stato richiesto un piano di rientro arteale si potrà verificare a che punto si è si possono addirittura fare richieste che ne so di cambio alloggio in deroga si può accedere al fondo sociale quindi scaricare la domanda effettivamente tramite la app o il nostro sito i nostri utenti delle varie province potranno inviare e comunicare problematico inviare domande direttamente alla sede centrale di ATC senza fare inutili code fuori col freddo col caldo con la neve o con la pioggia senza rischiare di arrivare a vuoto magari trovando una coda estrema all'esterno quindi di dover tornare un altro giorno peraltro la nuova app ha come obiettivo proprio quella magari di come fanno le grandi banche di prenotare l'appuntamento presso lo sportello in maniera tale di arrivare all'ora giusta accedere direttamente agli uffici e poter ovviamente avere un confronto con i nostri i nostri tecnici per risolvere la problematica diventa tutto più facile più smart senta abbiamo meno di due minuti ma dobbiamo parlare proprio del vostro bilancio che è stato certificato dall'ente Deloitte e non è poco mi sembra di capire sì il mio predecessore aveva correttamente deciso di incaricare una società esterna per una revisione volontaria si chiama così tecnicamente e aveva incaricato appunto Deloitte che è una delle big four al mondo come enti certificatori negli anni passati sono state fatte delle relazioni positive sul nostro bilancio ma con qualche prescrizione quindi con qualche richiesta segnalazione di aggiustamento non significativa ovviamente per la bontà del bilancio quest'anno invece siamo arrivati ad una certificazione piena il nostro bilancio è sano è stato correttamente predisposto e quindi io non posso che ringraziare ovviamente gli uffici di ATC che hanno veramente elaborato una molle di dati notevole e ringraziare anche Deloitte ovviamente del supporto anche il nostro revisore contabile che ovviamente periodicamente costantemente direi più che correttire è in ufficio a verificare il tutto e che ci hanno consentito di raggiungere questo importante obiettivo che dà garanzia non soltanto a noi di operare bene ma da garanzia anche ai nostri fornitori di poter lavorare di lavorare con un'azienda con un ente sano e peraltro lo dico come vezzo abbiamo ridotto i termini di pagamento da oltre 90 giorni che erano fino a 2-3 anni fa a meno di 30 giorni attuali quindi siamo perfettamente in linea con i parametri che il ministero richiede ecco per cui a me sono anche arrivate voci di qualcuno che ringrazia anche i piani alti quindi il presidente vuol dire che hanno lavorato hanno lavorato bene tutti i vostri dipendenti lo staff ma anche il presidente in primis io lei non lo poteva dire però io faccio quel poco che so fare ecco però io devo è molto positivo perché questo dimostra che comunque c'è un'interazione quotidiana con tutti i dipendenti che veramente come dicevo forse già l'altra volta visto che siamo leggermente sotto organico fanno molto di più di quello che dovrebbero fare per cui io li ringrazio perché sono sempre presenti sono sempre disponibili e ad emergenza rispondono prontamente certo non posso dire che abbiamo superato gli anni bui siamo però a buon punto si vede la luce perché nel prossimo futuro sicuramente gli uffici lavoreranno meglio i dipendenti lavoreranno meglio e i nostri utenti avranno un servizio migliore e anche da questo punto di vista auspico lo dico come chiusura che il governo faccia la sua parte perché noi abbiamo assoluta necessità di poter portare a termine i progetti 110% e PNRR che abbiamo ovviamente in pancia e soltanto con un emendamento legislativo il governo ci consentirà di farlo soprattutto in un periodo come questo di innalzamento dei consumi spropositato e non controllabile gli interventi che abbiamo preventivato sui nostri edifici consentiranno di abbassare i consumi dando maggior confort abitativo ai nostri utenti bene direi che ovviamente voi già state andando siete sul binario giusto oggi con un aiuto da parte del governo ovviamente riuscirete ad arrivare anche alla meta quindi complimenti e buon lavoro per tutti i giorni e per tutto quello che state facendo grazie a voi grazie alla prossima puntata ovviamente con ATC visto che di progetti ne avete tanti sicuramente prossimamente sarà di nuovo nostro ospite per raguagliarci grazie buona serata grazie a lei buona serata e buona serata a tutti voi l'appuntamento con il TG Question Time ritornerà venerdì prossimo alle ore 20 e 15 arrivederci a tutti i nostri amici ciao a tutti i nostri amici